Io adesso metto un suono di fondo che serve per guidare la nostra voce e per sintonizzare il nostro canto su quella frequenza. Ognuno canta secondo il ritmo e la lunghezza dell'on che riesce a fare, non c'è bisogno di iniziare tutti insieme, dura circa 20 minuti, 21 minuti circa e quando abbiamo terminato i 21 minuti di recitazione abbiamo questi 5 minuti che io non ho messo niente per ricordarci però sapete che più o meno dovete stare fermi e sentite nel fisico quello che vi fa, dopodiché faremo un momento di confronto in cui potete sentire o raccontare quello che avete sperimentato. Va bene, allora io adesso faccio partire la musica. Ognuno canta secondo 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 la musica. Grazie a tutti. 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 a tutti.